In un comunicato stampa, Ugo Lisi, esponente politico di spicco, esprime il suo entusiasmo per l'unità e la determinazione della sua coalizione politica. Lisi sottolinea che le liste e i partiti sono uniti dalla stessa ideologia e dalla stessa visione per la città. Il politico fa riferimento alle critiche e alle speculazioni mosse da alcuni membri dell'opposizione riguardo alla solidità della coalizione centrodestra. Tuttavia afferma che la loro storia è diversa e che non sono uniti contro qualcuno ma per qualcosa, per Lecce e per il suo futuro. Lisi evidenzia inoltre la presenza di professionisti credibili, seri e preparati, nelle loro riste, che conoscono l'apparato amministrativo e sono pronti a programmare insieme alla senatrice Adriana Polibortone il percorso di rinascita per Lecce. Rivolgendosi a coloro che disegnano scenari negativi e complottisti, lisi invita a non perdere tempo, sottolineando che la loro coalizione sta lavorando apertamente con Adriana perché è ciò che la città desidera. Sottolinea allo stesso tempo l'importanza di un futuro migliore per Lecce e la necessità di una guida forte e competente. Afferma che solo con la leadership di Etranea potranno realizzare il cambiamento necessario per la città. L'obiettivo insomma è lavorare insieme, unire le forze e portare Lecce verso una nuova era di sviluppo e prosperità.